Comincio a chiamare sul palco i musicisti con i loro strumenti, venite sul palco i musicisti con i loro strumenti, i musicisti che si sono esibiti in questo Live.me, che facciamo una foto insieme, quindi intanto smontiamo un po'. Allora Live.me è un progetto, un progetto che nasce dal comune di Milano e da ATM, è un progetto che tende a rilanciare la musica emergente. Ogni buon progetto, venite, staccate le chitarre, sbucciate le chitarre e cominciate a salire sul palco in fretta. Dicevo, qualsiasi idea per diventare realtà ha bisogno di qualcuno che l'appoggi, qualcuno che crede in quello che fai. E allora io ho trovato qui a Milano una persona che fortunatamente per noi e anche il sindaco, che crede nella musica e nella cultura e non è semplice oggi. Quindi io chiamo sul palco Letizia Moratti, che è il sindaco di Milano, che è venuto a vedere questa prima data, abbiamo già fatto una... e che stranamente ci dà questo spazio, dico stranamente perché non capita sempre, no? Beh, adesso sì, capiterà tutti i sabati. Capiterà tutti i sabati non solo, ma il progetto va avanti perché stiamo dando spazio alla musica emergente propria, non alle cover band o chi fa la musica del passato. Sì, tutti i ragazzi, tutti i giovani, tutti quelli che non hanno spazio in altri luoghi, qua possono esibirsi e io mi auguro che possono poi trovare il successo che meritano. Ecco, prima parlavo di questa rinascita culturale di Milano che è incredibile, perché non solo qui, da tanto che provo di andare alla mostra di Steve McCary non ce la faccio, cioè praticamente Milano... L'abbiamo prorogata adesso, è la terza volta che la proroghiamo. Comunque, dicevo, è strano che ci sia qualcuno, cioè una città in un periodo di crisi che crede nella cultura, perché di solito ci fanno i tagli. No, noi abbiamo incrementato i fondi perché la cultura è vita e... la vita sociale è fatta di cultura. Allora, io vorrei una foto qui con tutti i musicisti accanto, vieni, Letizia, qui in mezzo, musicisti anche quelli che dovranno suonare fra un po' qui sul palco, ci sono altri musicisti, ci sono delle ragazze, c'erano anche delle ragazze con le chitarre, loro sono gli ex presidenti, lui e Gabriele, dove sono le tue chitarriste? Lo fate chiamare, stanno arrivando. No, perché sono delle ragazze con le chitarre che devono arrivare... Eccolo qua, vieni, lei viene da Cosenza, lei viene da Cosenza, quindi arriva da Cosenza. Cosenza è Milano. Lui è di Milano, poi abbiamo gli altri ragazzi che... Vieni Giovanni, altra persona che ha creduto in questo progetto, l'assessore, perché un sindaco non fa niente se non c'è, un assessore c'è. Adesso però devo dire che non è così quando viene... Non è vestito così. Ma oggi è sabato, eh. Sono qui col bambino, che sono... Ho le cose del bambino. Sì, no, in effetti, perché è diventato papà e dorme poco, quindi quello è il problema. Lui è quello che, assieme al sindaco, si sta spendendo per fare in modo che finalmente, anche a San Siro, perché noi parliamo di qua, si possa ascoltare la musica in maniera decente, giusto? Sì, assolutamente, sì. Grazie al sindaco che in prima linea si impegna, anche noi naturalmente stiamo cercando di fare delle cose giuste per la città. Crediamo che la musica sia un fatto aggregativo molto importante, e soprattutto al giorno d'oggi socializzare anche attraverso la musica, che è un linguaggio universale e importante. Ma è vero che abbiamo perso Paul McCartney per colpa di questo fatto dei decibel? Eh sì. Sì, però avremo grandi cantanti quest'estate a San Siro e non solamente a San Siro, anche all'Arena Civica, quindi Milano è sempre capitale della musica. Ha una magia Milano che è straordinaria, al di là dei comitati. Allora io invito sul palco anche Ivan Cattani e Alberto Camerini sul palco, i musicisti, fra un po' si esibiranno loro, perché vedi, loro che hanno fatto dei pezzi di storia nella musica. Ciao, buongiorno. Alberto è l'arletchino del rock, ha iniziato con la Cramps, l'alternativa. Ivan, prima, oggi, cioè quando siamo venuti qui dalla scala musicale, avevi detto una cosa sul reality e perché il reality non permette alla musica di crescere. Cioè sto parlando di reality che ci sono in tv. Oggi è un discorso un po' lungo, ma i reality vanno benissimo. Il problema è che quando si chiama, non lo so, X-Factor, eccetera, bisogna permettere agli artisti, ai ragazzi emergenti, che si possano esprimere anche con le loro cose. Io ho fatto un esempio, se Vasco Rossi, Madonna o, non lo so, Guccini dovessero andare a un X-Factor e dovessero presentare solo la loro voce senza potersi munire del proprio bagaglio artistico, poetico, musicale, verrebbero esclusi automaticamente. Madonna, senz'altro, sappiamo non ha certo una bellissima voce, ma è tutto quello che ci sta dietro, no? Quindi è importante anche quello. Quindi molte volte questi programmi vanno chiamati per il loro verso giusto, cioè X-voce e basta. Il talento non c'entra niente. Oggi cantano tutti, quindi cantano tutti però la stessa canzone, bisogna cantare magari anche meno, ma con più creatività, solo questo. Poi tu Alberto, se oggi presenti una tua canzone nuova, hai uno spazio? Sì, piccolo, ma sì, come tutti, ce l'ho, come tutti, perché è il mondo moderno, l'America, la globalizzazione, siamo tutti uguali, American Idol funziona tutto nello stesso modo, per cui io non sarei così come quando ero giovane io ai miei tempi, cioè non mi lamenterei così tanto. Penso che è cambiata la scena, dobbiamo adattarci alla nuova realtà informatica e dell'informazione, oltre che ai computer, e sì, penso che ce l'avrei un piccolo spazio, che non riuscirei a trovarlo. Certo, non come ai tempi della CBS, quando erano gli anni Ottanta, era un'altra cosa, ma penso che alla fine, se uno insiste, qualcosa viene fuori. Allora, ma noi qui abbiamo iniziato, tu farai un prano tuo anche? Farò anche un prano mio, però io che ho detto poi delle canzoni, io sono diventato famoso proprio facendo il primo esperimento di cover, quindi sugli anni Sessanta, ed era una cosa... Però li avevi trasformati totalmente. Ho cantato Bang Bang 30 anni prima di Carla Bruni, però io non ho Sarcosi, sono così così e basta. Però ci ho messo del mio meglio. Ma ci fai stasera la versione di Bang Bang stasera? Assolutamente sì. Allora stasera ci farà la sua Bang Bang, lui non è Carla Bruni e così e così.